Ora parleremo dell'effetto del genere sul trattamento. Mentre dal punto di vista epidemiologico sono ormai note le differenze di genere nelle malattie reumatiche, ad oggi disponiamo di pochi dati sulla possibile influenza che il sesso biologico esercita nel metabolismo e nella risposta alle diverse terapie utilizzate nel trattamento delle malattie autoimmuni. La sottovalutazione del peso che le differenze biologiche, culturali e sociali esistenti tra uomini e donne hanno nell'influenzare la risposta al trattamento è la diretta conseguenza dell'abitudine passata di escludere le donne dagli studi clinici, in parte giustificate dal timore degli effetti collaterali che i farmaci possono avere sulle funzioni riproduttive o che possano essere screti nel latte materno passando al bambino durante l'allattamento al seno. Nell'artrite reumatoide e nelle spondiloartriti la terapia prevede l'utilizzo di vari farmaci in base allo scenario clinico corticosteroidi, farmaci antinfiammatori non steroidei, farmaci modificanti il decorso della malattia convenzionali sintetici, farmaci biologici e le piccole molecole di più recente introduzione. I biologici sono una categoria di farmaci diversi da quelli tradizionali di sintesi chimica, in quanto contengono uno o più principi attivi prodotti o estratti da un sistema biologico. Sono definiti biotecnologici quei farmaci i cui principi attivi sono prodotti tramite le tecnologie del DNA ricombinante, l'espressione controllata nelle cellule di geni che codificano per proteine biologicamente attive, le tecniche usate nella produzione di bridomi e anticorpi monoclonali. Ad oggi i farmaci biologici hanno rivoluzionato il trattamento di molte malattie, tra cui le malattie autoimmunitarie ma anche infettive tumorali. Nell'artrite reumatoide sono stati condotti vari studi in Europa e Nord America che hanno dimostrato come le percentuali di remissione nelle donne che assumono anti-TNF siano inferiori rispetto agli uomini. Le pazienti affette da artrite reumatoide rispetto agli uomini riferiscono maggior stanchezza, una maggior compromissione funzionale e presentano valori più alti di attività di malattia. Le donne interrompono più frequentemente degli uomini la terapia per inefficacia e comparsa di effetti collaterali. Analogamente a quanto osservato nell'artrite reumatoide, studi osservazionali hanno mostrato che nell'artrite psoriasica gli anti-TNF sono più efficaci negli uomini rispetto alle donne, anche dopo correzione di potenziali fattori di confondimento. Il sesso maschile si associa a tassi maggiori di risposta alle terapie con anti-TNF inibitori dell'interleuchina 17 nell'artrite psoriasica, sia nella forma di impegno assiale che articolare periferico. Nelle spondiloartriti è stato dimostrato che l'aderenza alla terapia nelle donne è inferiore rispetto agli uomini. Tra i possibili fattori che si associano a una minor risposta alla terapia con anti-TNF nelle spondiloartriti nelle donne vi sono la minor frequenza di HLA-B27, la più frequente presenza di entesite, ovvero di infiammazione nei siti di inserzione di tendini e legamenti sull'osso, la maggior quantità di massa grassa nel corpo femminile, gli ormoni femminili, il fallimento di precedenti anti-TNF, la maggior durata di malattia dovuta al ritardo diagnostico, correlato alla maggior frequenza di dolore diffuso nelle donne, che spesso rende difficile la diagnosi differenziale con la fibromialgia e all'assenza della lombalgia con le tipiche caratteristiche infiammatorie. Sia meccanismi di tipo ormonale che genetico sembrano contribuire alle differenze legate al sesso nell'immunità. Infatti molti geni su cromosoma X regolano la funzione immunitaria e svolgono un ruolo importante nel determinare le differenze tra i due sessi nello sviluppo delle malattie monomediate. Ad oggi non esistono approcci terapeutici diversificati a seconda del sesso biologico. Tuttavia un aspetto fondamentale che viene considerato nella scelta della terapia nelle donne in età fertile con malattie reumatiche è la possibilità di impiegare farmaci che siano compatibili con la gravidanza ed eventualmente con l'allattamento. Di questo si sono occupate società scientifiche europee, americane, inglesi e italiana. Per concludere, le donne devono essere informate circa la possibilità di rispondere diversamente alle terapie rispetto agli uomini e che i tempi per individuare il dosaggio corretto dei farmaci possano essere più lunghi al fine di migliorare la compliance alle terapie. È inoltre importante incoraggiare i pazienti a chiedere informazioni e a riportare ai professionisti che li hanno in cura tutti i potenziali effetti collaterali che dovessero sperimentare nell'assunzione dei farmaci in modo da contribuire all'ampliamento delle conoscenze e dei fattori in grado di influenzare la risposta al trattamento. La comprensione sia dei fattori predittivi di risposta che di quelli associati a un aumento del rischio di fallimento delle terapie risulta fondamentale nella prospettiva futura della medicina di precisione che ha come obiettivo quello di rendere la terapia il più personalizzata possibile sulla base delle caratteristiche del singolo paziente.